Allora, amici del Draghison, questo è un albergo antiquato, antiquatissimo, perché Brighton era pienissima e l'unica stanza che abbiamo trovato è stata questa, ecco qua, molto molto antiquato. Questo è il tipico albergo antiquato, vedete c'è anche il kettle per fare il coffee, c'è una cosa tipica di qua, il wallpaper antiquato, il bagno antiquatissimo, ancora con questi cosi qua, guardate com'è ancient. Guardate com'è ancient, guardate com'è ancient. Questa è la vasca. Molto antiquato. Qua c'è questo armadio sempre, secondo me, pieno di fantasmi. Io penso che qualche fantasma sanotte lo troverò. Questa è la stanza, very ancient. Questa è proprio antiquata, è una cosa molto molto antiquata. Carina eh? Ecco qua, molto antiquata. Questa è la stanza. Questa è la stanza. Questa è la stanza.